E da lavoro sono tutti veniti, che io l'annacu e voi laggiù mesciti. Vorrei partire ricordando quali sono le cose più imbecilli, più idiote che fa l'umanità. Le guerre, la prima cosa, le guerre, le guerre è una cosa imbecilla, idiota. E poi la strafottenza, l'abbandono, l'incuria. Intestare questa piazzetta a Mario Gliotto è un atto dovuto per l'azione, l'attività, l'impegno con questo uomo a tutela del patrimonio artistico monumentale della città di Palermo. Noi abbiamo, su sollecitazione, il professore Vicari, oggi dedicato un'intera giornata a un evento, il settantesimo anniversario del tragico bombardamento della città di Palermo, del più grave bombardamento sulla città di Palermo. Una figura davvero indimenticabile e fondamentale per la ricostruzione della città, che ha avuto capacità in pochissimo tempo e con mezzi di estrema povertà a ricostruire i principali monumenti che erano stati distrutti, ridotti a rurre durante questi bombardamenti che sono succeduti nei mesi di aprile, maggio, giugno del 1943. Sono molto commossa e orgogliosa di essere qui presente a questo riconoscimento del lavoro che mio padre Mario Gliotto ha svolto a Palermo. Un lavoro svolto con dedizione e passione, in un periodo in condizioni particolarmente difficili e anche pericolose. Ho visto mio papà sotto un'altra forma, una forma professionale, anche se conoscevo la sua passione per il suo lavoro, ma è una forma professionale, tecnica, di cui io non avevo mai capito a me. Ho trovato alcuni fogli, non chiamiamoli direi diario, in cui annotava delle sensazioni e due mi hanno colpito. Una, quella del bombardamento del 9, che si trovava a Moreale, ha preso la bicicletta ed è venuto giù a rotta di collo, diciamo a Palermo. E un'altra che si trovava sempre in seguito a un bombardamento, in una zona fuori Palermo, che si è fatto 40 chilometri a piedi per venire a Palermo per vedere che cosa era successo. Si ricorda questa data perché è la data in cui Palermo ha subito un doppio bombardamento americano-inglese. La città è stata totalmente devastata e distrutta. Pertanto oggi la città ha deciso di riaprire un suo reperto storico con una mostra memoriale e all'interno di questa reale fonderia troverete una mostra memoriale. Sono dei pannelli didattici che spiegano un attimino il periodo precedente ai bombardamenti, le misure preventive. Si arriva al clou, proprio al bombardamento vero e proprio, con il 9 maggio, appunto, questa tragica data che si ricorda per le distruzioni di Palermo. E la fase successiva, quindi, con l'arrivo dei americani che effettivamente realizzarono una vera e propria occupazione della nostra città. All'interno del ricovero antiaereo Gaetano d'Aita che si trova sotto il cortile della scuola Madre Teresa di Calcutta in via Macheda, 54, il cui ingresso però è da Via Fiume. Lì è una mostra particolare e suggestiva perché abbiamo ripristinato un reperto storico, un ricovero antiaereo in perfetto stato, tra l'altro uno dei più grandi ricoveri antiaereo cittadini, bonificato dal Coime, e all'interno troverete la medesima mostra, però che segue un andamento cronologico, seguendo proprio l'andamento serpentino delle varie gallerie intercomunicanti all'interno del ricovero. È una mostra da non perdere proprio per via del fatto che questo reperto verrà aperto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 e sino a domenica. Dopodiché non sapremo ancora le sorti, se verrà nuovamente riaperto e quando verrà riaperto. Quindi io consiglio di visitarlo, è un'esperienza suggestiva e soprattutto è una memoria storica. Il monumento è un qualcosa che la città dovrebbe ripristinare perché potrebbe diventare un vero e proprio museo memoriale per ricordare il tragico evento che ha distrutto la città di Palermo. Il non curarsi del proprio habitat è anche cosa peggiore, poi è la speculazione, l'interesse eccetera. E qui siamo proprio in un luogo in cui ci sono due esempi di questo che ti dicevo. L'edificio della fonderia che è stato bombardato ed è rimasto solamente questo spezzone che ho recuperato, sono orgogliosa di aver fatto questo restauro e qui tutto il resto non c'è più. E poi alle nostre spalle c'è l'edificio del Cario delle Finanze che è stato oggetto recentemente di questa denuncia di furto di una statua ma si vede benissimo l'edificio abbandonato, proprio in disarmi, in degrado, una cosa vergognosa. Ce ne sono tanti edifici abbandonati in città. Noi stiamo tentando di fare un censimento di tutti questi abbandoni. Insomma, una città che ha bisogno di tanti spazi. Ci sono artisti che non hanno teatri, giovani che non hanno dove suonare o dove fare arte, in generale cose, gente che non ha casa, edifici abbandonati. Insomma, è veramente un'indicenza. Allora noi, come Salvare Palermo, stiamo cercando di lavorare anche in questa direzione, di fare un censimento degli edifici abbandonati e di proporre anche delle utilizzazioni, delle destinazioni d'uso perché la città deve rivivere. Bò, 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 dormi figlio e vai, la bò. Bò, 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 dormi figlio e vai, la bò, e vai, la bò. Grazie a tutti